Previsione del tempo per questa sera, sabato. Nella zona di Hill Valley si prevede cielo prevalentemente sereno con scarsa lubrosità. Ma sei sicuro di questo temporale? E quando mai quello ne ha indovinata una? Figurati il futuro. Sai, Marty, mi dispiace molto che tu vada via. Tu hai cambiato la mia vita, mi hai dato un motivo di speranza. Ora so che riuscirò a vedere il 1985, che costruirò questa, che avrò la possibilità di viaggiare nel tempo. Certo sarà duro aspettare trent'anni per parlare con te di tutto quello che è successo in questi pochi giorni. Mi mancherai molto, Marty. Anche tu mi mancherai. Doc, parlando del futuro... No! Marty! Abbiamo già stabilito che avere informazioni sul futuro può essere molto pericoloso. Anche se le tue intenzioni sono buone, l'effetto può essere tremendo. Tutto quello che vuoi dirmi lo scoprirò nel corso naturale del tempo. Caro dottor Brown, il giorno del mio viaggio nel tempo, tu sarai... ucciso dai terroristi. prendi le precauzioni necessarie per evitare questo terribile disastro. Il tuo amico... Marty. Buonasera, dottor Brown. Che cosa ci fa con quel cavo? Ah, una specie di... esperimento atmosferico. Ah. E qui sotto che c'è? No, 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 no. È un apparecchio per la rivelazione dell'energia statica. Ma ce l'hai permesso per questo? Eh, certo che ce l'ho. Dovrebbe essere qui.